Un mese di sensibilizzazione contro la violenza sugli operatori sanitari, ma è solo l'inizio. Il direttore generale Aslatt Aranto Colacicco, medici, dirigenti, infermieri, operatori sociosanitari, i presidenti dell'Ordine dei Medici e degli Infermieri, associazioni e agenti della Vigilanza VIS, si sono radunati all'ingresso dell'ospedale Santissima Annunziata, a chiusura della campagna nazionale Rispetta a Chi Soccorre, destinata all'educazione della cittadinanza e alla prevenzione di atti violenti contro operatori sanitari e sociosanitari. I medici, i eroi nel periodo Covid, divengono troppo spesso bersaglio immotivato del nervosismo e della rabbia della gente, un fenomeno da combattere. Se c'è una ferita da taglio che forse poteva essere presa in carico dal medico curante e quindi in quel momento magari l'infermiere sta dicendo guardate che ci sono tre codici rossi, ci sono altre situazioni, ecco, in quel caso io invito questi familiari ad avere un po' di pazienza. La situazione è gravissima, quotidiana nel pronto soccorso e quindi approfitto per esprimere ai colleghi la massima vicinanza, ma non meno grave, purtroppo si registra in altri presidi. Davvero un messaggio importante che noi vogliamo dare a tutta la popolazione e soprattutto ai nostri operatori sanitari che devono lavorare in perfetta armonia e soprattutto pensando a dare salute, pensando a soccorrere.